Come è nata l'iniziativa di oggi e perché avete scelto proprio il tema della sconfitta? Buongiorno, innanzitutto l'idea è nata alcuni mesi fa perché vogliamo dare l'immagine della città di Vittorio Veneto come una città molto attrattiva dal punto di vista sì turistico ma a Vittorio Veneto si fa tanto sport, il binobbio sport e salute lo stiamo portando avanti quindi creare l'immagine di una città viva, attiva con tante associazioni sportive che lavorano in Vittoriese per noi è molto importante. L'idea è nata da un'iniziativa della consigliera Silvia Salezze due o tre mesi fa che ha invitato questi campioni a parlare con gli studenti con un tema molto importante, secondo me educante, che è il valore della sconfitta nello sport perché tutti questi campioni che sono veri campioni hanno avuto anche dei momenti difficili nella loro carriera ma sono sempre riusciti a rialzarsi, quindi insegnare ai ragazzi che è importante sì vincere ma è molto più importante risollevarsi dopo una sconfitta. Voi oggi avete promosso questo incontro, a vostro parere dovrebbero esserci più incontri di questo tipo? Assolutamente sì, noi come Coldiretti e Campagnamica siamo intervenuti soltanto per mandare un nostro piccolo messaggio il messaggio è che nei valori che fanno parte del nostro stile di vita il mangiare bene è uno dei valori che noi riteniamo importante, è il nostro lavoro quello di produrre del cibo buono, del cibo a chilometro zero del cibo di qualità, del cibo che rispetta anche tradizione e memoria e che fa parte di uno stile di vita di questi campioni che abbiamo visto qua oggi. Queste cose vanno ripetute, vanno ripetute molto spesso perché i ragazzi ci stanno costruendo oggi i loro valori e il consiglio che noi gli diamo, il mangiare bene è uno dei valori che loro dovrebbero accettare. Quanto è importante che la scuola insegni che cos'è la sconfitta e secondo voi i giovani sanno che cosa significa perdere e soprattutto rialzarsi dopo una sconfitta? Ma io credo fondamentalmente che visto anche i tempi che stiamo vivendo sia fondamentale che loro imparino cos'è il valore della sconfitta, cioè spesso e volentieri la società è molto competitiva, ultimamente siamo sempre in competizione e tramite lo sport sarebbe fondamentale affrontare situazioni di difficoltà da cui poi rialzarsi purtroppo devo dire che ultimamente ci sono sempre meno ragazzi che fanno attività sportiva. Sì, concordo su quello che ha detto il mio collega e trovo anche che sia difficile insegnare il valore della sconfitta perché c'è un po' la voglia di avere tutto e subito e anche risultati immediati quindi far capire che anche una sconfitta può essere un punto di partenza per migliorare, per trovare nuove strategie secondo me è fondamentale. Sicuramente la sconfitta fa parte dell'essere sportivo, dell'essere agonista, io dico sempre, l'ho detto tante volte che se ho vinto poi è perché sono riuscito ad accettare in certo qual modo la sconfitta sicuramente è una cosa difficile, una cosa che fa male dentro, quindi la sconfitta porta ecco questo malessere però se la sconfitta poi è rielaborata, quindi ti porta a riflettere sugli errori commessi ti porta poi a crescere e a alzare quella sticella giorno dopo giorno è quello che poi ti fa ritrovare te stesso, avere più fiducia e sicuramente poi arrivare alla vittoria quindi io dico che non c'è vittoria senza accettare la sconfitta. Assolutissimamente concordo, la sconfitta è un passaggio della vita, di un percorso di vita che ci aiuta a comprendere innanzitutto molto meglio quello che è la nostra forte passione che ci deve essere solo che di aiuto e da stimolo per migliorarci successivamente non si può pensare di diventare delle persone migliori senza fare degli errori e quindi la sconfitta è una forma di errore che ci educa a diventare persone ancora più disciplinate portando avanti i nostri valori e cercando di raggiungere poi i nostri obiettivi. Nello sport bisognerebbe non perdere innanzitutto, specialmente quando fai dei sport di squadra dei sport dove se perdi hai dei problemi, specialmente chi fa il mio mestiere però la sconfitta fa parte della vita, purtroppo è un male necessario perché ci serve a volte anche per cercare di ripartire, di migliorare il nostro modo di essere e di vivere la nostra vita in maniera diversa. Se uno ha un'autostima grandissima probabilmente soffre inizialmente ma poi se riesce a vedere in modo critico la situazione probabilmente ne può trarre dei vantaggi. La prima sconfitta magari si buttano giù, hanno uno sconforto forte e non riescono a capire però pian piano bisogna insegnarli che cadere e rialzarsi è ancora più bello. La critica fa parte del nostro lavoro, noi veniamo giudicati per come giochiamo quindi noi dobbiamo cercare di prepararci al meglio per poter dare il massimo della nostra performance. È chiaro che chi fa parte di questo mondo ma non solamente del mondo sportivo perché la critica è un qualche cosa che ci può toccare a prescindere da tutto deve essere sempre un qualche cosa di costruttivo, dovrebbe essere un qualche cosa di costruttivo. In bicicletta per raggiungere i risultati, poi sicuramente tra un mesetto quando rientrerò le corse inizieranno le critiche perché non vado abbastanza forte, perché non sono ancora... ma questo fa parte del gioco dello sport. Credo che ogni atleta in qualsiasi disciplina sia molto tenace e abbia l'energia all'interno di sé per voler primeggiare. Secondo te il tema di oggi è di attualità per i giovani e voi giovani sapete che cosa significa essere sconfitti? Certo, è un tema di attualità perché oggigiorno la sconfitta è vista come qualcosa di molto negativo, infatti è una società in cui c'è molto arrivismo, si tenta sempre di arrivare primi ma non si capisce mai l'importanza di arrivare secondi o di partecipare. Allora, per il mio partecipare è sempre molto importante perché ci si mette nella condizione di mettersi in gioco e quindi partecipare sia è importante ma vincere di più, per il mio. Io credo che partecipare sia bello, ma quello che conta è la vittoria nella società ad oggi. La sconfitta non deve essere vista come un fallimento ma solo come una parte del processo per il successo, per la vittoria. Trovo utile perché comunque è una possibilità di avere un confronto reale con dei campioni e conoscere una realtà diversa dalla nostra, che comunque siamo ancora ragazze e non abbiamo potuto competere ad alti livelli ma magari qualcuno avrebbe piacere di farlo. Allora, se si tratta di giovani sicuramente secondo me partecipare perché è importante imparare qualcosa soprattutto e poi vincere ovviamente fa sempre piacere però l'importante è partecipare e metterci del proprio.